Ciao a tutti, sono Teninati, benvenuti su un altro video. Oggi ho un po' di notizie per voi. Prima parliamo di Arnold Classic Brasile, poi parliamo di New York Pro e poi parliamo di Oskar Zewski che forse non gareggiava più questo anno. Iniziamo con Nexila. Nexila ha pubblicato un nuovo video sulla sua pagina Instagram dove lui ha detto che fa pochi giorni si inizia la sua preparazione per la sua prossima gara, però non ha indicato la sua prossima gara. Non può essere Arnold Classic Brasile anche se più o meno quello lì dovrebbe essere una gara che poteva fare perché essendo che magari colombiano, brasile, sono sudamericani, potrebbero gareggiare facilmente di là, senza visto credo, però secondo me manca solo più o meno due settimane e mezzo e non può iniziare la preparazione, quindi non sarà Arnold Classic Brasile. Però secondo me sarà New York Pro perché ho sentito su altri posti dove dicono che lui farà New York Pro, però questa cosa non lo prende molto seriamente perché anche lui ha detto che faceva Arnold Classic Ohio, poi faceva Arnold Classic UK, però alla fine non ha fatto nessuna. Quindi queste cose sono solo le voci, però lui ha detto che è in preparazione dove sul prossimo show, però dicono che forse farà New York Pro e New York Pro sarà lui, Tony Burton e Nick Walker anche sul foglio. In teoria deve vincere quella gara lì facilmente Nick Walker, però non si sa se altra gente lo fanno, magari un italiano eccetera, perché sono ancora otto settimane prima di New York Pro. Quindi ditemi la vostra cosa ne pensate di Nick Zilla, secondo voi Nick Zilla lo fanno New York Pro o se avete sentito la tua gara che questo gruppo riesce a fare, ditemi sui commenti sotto. Poi la seconda notizia oggi è di Ernst Klanzerski, ieri sul suo video su Instagram, Ernst Klanzerski ha detto che lui prende una pausa sia su body beauty anche sul mondo di social, non lo so se è su Instagram o su YouTube, lo so che lui è forte su YouTube. Lui ha detto che anche questa preparazione per la North Classic è stato molto duro per lui fisicamente e mentalmente. Infatti chi conosce Ernst Klanzerski lo sapeva che lui non era suo stesso, questo era North Classic precondizione eccetera, mancava qualcosa. Io lo vedevo non felicissimo, anche lo vedevo un po' tanto 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 bianco. Sembrava qualcosa che non andava, però lui non ha indicato molto. Anche io secondo me può essere una cosa di relazione perché lo so che lui è sempre in viaggio con la sua ragazza eccetera, però ultimamente non sto vedendo la sua ragazza con lui, quindi non lo so e spero che lui riesce a prendere il giusto tempo che si serva per ricoperare cosa manca a lui. Però di sicuro lui ha detto che farà Olimpia, però non si sa. Per un po' di tempo lui ha detto che lui si stacca un po' sia da social e sia da tutto per dare anche la sua mente e anche il suo corpo un po' di riposo. Per l'ultima notizia per oggi è di Arnold Classic Brasile, però prima di dire l'ultima notizia, se tu sei ancora qua che guarda questo video, fammi un favore, metti mi piace su questo video, a condividere con i vostri amici, anche iscriviti sul canale e mi dà una grossa mano, apprezzo molto. Allora su Arnold Classic Brasile c'è Tonio Botten e Rafael Brandao che sono due nomi grandi che loro sappiamo che fanno questa gara. E tanti stanno dicendo ovviamente vince Rafael Brandao perché la cosa abbiamo visto lui su Arnold Classic è migliorato tanto. Però io ho i miei dubbi, secondo me vince Tonio Botten perché Tonio Botten ha una schiena veramente meravigliosa. Anche lui su Foglio, lui ha avuto un piazzamento molto più alto di Rafael Brandao, Mr. Olympia. Perché Tonio Botten è arrivato a 8 posizioni a Mr. Olympia. Mi sa che la più grande posizione che è arrivato a Rafael Brandao era decimo, se non è sbaglio. Quindi secondo me si è migliorato a Rafael Brandao, si, però Tonio Botten è un altro robot. Martin Botten addirittura loro fanno la cooperazione sul fisico con Dexter Jackson per far capire com'è questo ragazzo. Anche io lo vedo pienissimo, lo vedo tanto tanto migliorato. Anche il vecchio detto su Bodybuilding che schiena vince la gara. E lui ha uno schiena veramente veramente tosto. Quindi ditemi la vostra cosa ne pensate chi vince Arnold Classic Brasile se Rafael Brandao o Tonio Botten. Ci vediamo nel prossimo video. Let's go!